A parte l'avevo detto, avevo detto attenzione a illudersi che vincere con la Samp dell'altra sera possa essere preludio di una passeggiata col Venezia. Perché? Perché comunque il Venezia è stata la terza forza del campionato, è stata una squadra che fino all'ultimo ha lottato col Como per andare su. E altre volte ho detto, il Palermo secondo me senza Corini sarebbe andato al posto del Como perché ha un organico e una rosa superiori a quasi tutte le squadre, forse tranne al Parma. E stasera ragazzi abbiamo visto quello che temevo per i palermitani, ovviamente vi sapete io sono imparziale quindi non tifo né per uno né per l'altro e dirò il mio giudizio da imparziale come sempre. E da imparziale vi dico che me l'aspettavo, mi aspettavo un Venezia cinico, non un Venezia bello, però un Venezia che poteva andare a Palermo e comunque non perdere. Ecco, magari vincere non me l'aspettavo, mi aspettavo più un pari. E invece il Venezia va, va con Pierini che segna un gol pesantissimo, veramente pesantissimo perché il Palermo a ritorno non gli basterà vincere 1-0 perché se finisse 0-1 anche il ritorno passerebbe Venezia come miglior piazzamento in classifica. Non ci sarebbero supplementari, non ci sarebbero rigori. E quindi a Venezia che forte di due risultati utili a favore appunto nel ritorno è un Palermo che dovrà invece fare veramente un'impresa va sicuramente più tranquilla nella gara del ritorno appunto gli arancio-nero-verdi. Però cosa c'è da dire? C'è da dire che comunque è un Palermo che almeno nel primo tempo un po' di più ci ha provato. È vero, non è che abbia fatto una volta sola arrivata in porta da Joronen, però ecco diciamo che il pubblico che oggi doveva spingere, un Palermo che oggi doveva assolutamente vincere la partita perché vincere oggi sarebbe stato veramente fondamentale per appunto la gara di ritorno e invece comunque non riescono a trovare gli spazi e alla fine è Vanoli che batte Mignani. Diciamo che venerdì sarà un'altra partita, probabilmente sì, è anche vero che comunque il Venezia era più riposato, perché comunque aveva la gara di campionato con lo Spezia e poi ha riposato, mentre il Palermo ha avuto pochissimi giorni per recuperare dopo la partita contro la Samp che comunque è stata dispendiosa, nonostante tutti abbiamo visto una Samp un po' svogliata, forse che non voleva andare su, l'ho detto nel post partita, ovviamente questo non va a sminuire una buona prova del Palermo con la Samp però ragazzi obiettivamente avevo visto troppa gente illudersi dopo quella partita lì, io non sono Nostradamus, anzi spesso non ci prendo, molti di voi palermitani mi dite gioca contro il Palermo che ci porti bene, io ragazzi anche stavolta se non sbaglio non mi ricordo, però mi sa che avevo detto X2, non sono sicuro e quindi stavolta non vi ho portato bene. Mentre ragazzi c'è comunque da segnalare il record stagionale di spettatori al Barbera, oltre 32.000 spettatori che però non sono serviti appunto a spingere la vittoria al Palermo. Ripeto, non ha tanti spassi il Palermo, non riesce a trovare quei guissi, quegli spassi per provare a segnare al Venezia, c'è la Lucioni, la prima occasione di testa al 26esimo, ma il pallone va di poco a lato, due minuti dopo c'è Diakite che è stato il protagonista della gara con la Samp, ma la conclusione anche questa va fuori, deviata in angolo appunto da Joronen. Nel primo tempo l'unica occasione del Venezia in realtà è quella di Candelà, poco prima dell'intervallo, un tiro centrale, poca roba, parato appunto da Desplange. E poi all'inizio ripresa c'è comunque Ranocchia che ci prova di sinistro, ma niente di fatto, la risposta appunto è di Pierini al 52esimo, ma viene rimpallato da Marconi, poi non si capisce il perché i tifosi rosa-nero iniziano a lanciare oggetti in campo. Si alza un po' la tensione anche della gara perché comunque ci sono anche scontri anche sul finale, le panchine che reagiscono male, eccetera eccetera, ma al 62esimo appunto è un lampo di Pierini che rovina la festa al Barbera perché è servito dal solito Poiampalo, che sapete che io ho un debole per Poiampalo, di sinistro appunto batte Desplange. Sesta rete stagionale appunto per Pierini, Mignani prova il tutto per tutto cambiando in attacco, mettendo Traore di Mariano in signa al posto di Soleri, Lund e Gomez, ma il Venezia riesce a gestire comunque bene il gol del vantaggio e nessuno si avvicina dalle parti di Joronen. Poi si fa male Desplange che rimarrà in campo praticamente su una gamba sola e poi il gol di Dembélé gela definitivamente appunto il Barbera ma è fuori gioco e viene per fortuna del Palermo annullato perché sarebbe stata veramente l'ammazzata che avrebbe già deciso il ritorno perché avrebbe dovuto vincere veramente 3-0. Vince il Venezia, venerdì ci sarà il ritorno e ripeto sarà dura, durissima, però ripeto io ve l'avevo detto, cioè secondo me il Venezia è una squadra che io vedo favorita ad andare su. Perché? Perché comunque è arrivata terza, perché comunque ha lottato contro il Como fino alla fine, e poi va bene all'ultima la Persa con lo Spezia, però è comunque una buona squadra. E devo dire che davvero stasera mi sarei aspettato qualcosa di più dal Palermo, però è un Palermo che ripeto è stanco ragazzi, era un Palermo che si è visto che ha dato veramente tanto con la Samp ed è appunto uno dei fattori da non sottovalutare questa cosa qui, che comunque il Palermo aveva una partita tre giorni fa, mentre il Venezia ha avuto molto più riposo. Anche qui si giocherà di nuovo venerdì, quindi anche qui bisogna vedere un po' il dosaggio della stanchezza di tutti, ma io, lo sapete, dall'inizio del campionato che dico che il Palermo ha buttato via una promozione diretta, secondo me, che ripeto non sono nessuno, io dico la mia, voi dite la vostra nei commenti, come sempre, anzi piuttosto, se vi piace la Serie B seguitemi, iscrivete al canale, fate al campione, mi ti piace, vi dite, commentate, lo dico adesso per non dirlo all'inizio, così non vi disturbo, è tutto gratis, io porto la Serie B, la Serie A, il calcio internazionale, nazionali, Coppa Europea, vi aspetto. Chiusa parentesi, dicevo appunto, tenere Corini per così tanto è stato per me il maggior problema del Palermo quest'anno, perché io sono, e resto convinto, e ripeto, con i secchi ma non si va da nessuna parte, io sono un operaio, quindi non sono un esperto di calcio, sono solo un tifoso come voi, ma sono convinto che, poi ripeto, posso sbagliare, che il Palermo senza Corini, dall'inizio del campionato, con un altro mister, sarebbe arrivato secondo. Ne resto convinto, ma con i secchi ma non si va da nessuna parte, in bocca al lupo comunque è rosa nero per la gara di venerdì, complimenti a Venezia, perché comunque sia, con poco ha ottenuto il massimo, e adesso venerdì giocherà molto più sereno, ma attenzione, perché la Serie B rimane sempre un campionato imprevedibile, tutto può succedere da qui, appunto alla prossima partita, quindi speriamo di vedere una bella partita venerdì, di divertirci anche venerdì, vedremo chi la spunterà, ci vediamo, appunto, col video domani di Catanzaro Cremonese, sto facendo Catania, e poi tutto il resto, il recap di Serie A domattina, eccetera, eccetera. Vi abbraccio di cuore, il vostro monta, fatemi sapere la vostra nei commenti, vi abbraccio, Alla prossima!